E' deceduto nel carcere di Opera a Milano l'ex reggente del clan di Lauro, Cosimo di Lauro, che nella struttura penitenziaria milanese era detenuto in regime di 41 bis. Secondo quanto si è appreso sarebbe stata disposta l'autopsia. Cosimo, in carcere da lontano 2005, era figlio di Paolo di Lauro, capo clan dell'omonima organizzazione camorristica di Secondigliano e fratello di Marco, anche lui detenuto in regime di carcere duro in Sardegna. Cosimo, 49 anni, era ritenuto dagli inquirenti della Didia di Napoli, colui che diede vita alla prima faida di Scampia che provocò circa un centinaio di morti. Lo stato di salute mentale di Di Lauro sarebbe stato compromesso da tempo. Per i suoi legali è ormai diventato impossibile rapportarsi con il loro cliente. Rifiutava di partecipare agli incontri e rifiutava le notifiche. Gli avvocati in più occasioni hanno chiesto all'autorità giudiziaria di disporre una perizia finalizzata a valutare la sua capacità di intendere e di volere, ma le istanze sono sempre state rigettate. Erede primo dei dieci figli del boss Paolo Di Lauro, ciruzzo milionario, Cosimo Di Lauro è stato ritenuto colpevole di numerosi omicidi. È stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Massimo Marino, cugino del boss Gennaro Marino, detto McKay. Quest'ultimo ritenuto il braccio destro del capo clan Paolo Di Lauro. A dicembre 2008 viene condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio di Gelsomina Verde, l'ex fidanzata di un affiliato passato dalla parte degli scissionisti Gennaro Notturno, torturata e uccisa perché ne rivelasse il nascondiglio il 21 novembre 2004, il cui corpo poi venne dato alle fiamme, prima di essere poi assolto dall'accusa nel dicembre del 2010. Poi ancora la condanna a 15 anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso. Di recente, inoltre, Cosimo Di Lauro era stato condannato sempre all'ergastolo per gli omicidi di Raffaele Duro e Salvatore Panico e di Federico Bizzarro, avvenuti a Mugnano prima della faida del 2004. Inoltre è accusato di essere il mandante dell'assassinio di Carmine Attrice, la cui discussione della difesa è fissata per il prossimo 21 giugno dinanzi la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli. Il boss fu arrestato il 21 gennaio 2005 nel rione denominato Terzo Mondo nel quartiere di Secondigliano, altro fortino della criminalità organizzata e della famiglia Di Lauro. Per impedire che fosse ammanettato contro le forze dell'ordine ci fu anche un lancio di oggetti dai balconi. Nove mesi più tardi venne arrestato anche il padre Paolo, nascosto in una casa poco lontano dall'abitazione di famiglia in via Cupa dell'Arco. In tutti i processi che si sono celebrati dal 2005 in poi è stato chiesto di verificare la capacità dell'imputato di intendere e di volere e la capacità di stare in giudizio richiesta della difesa che è sempre stata rigettata, sebbene dal 2007 Cosimo presentasse come riportato dalle relazioni presentate segni di instabilità mentale, pseudo allucinazioni uditive, reazioni depressive, ansiose e turbe del sonno. Ieri mattina la comunicazione all'avvocato difensore Saverio Senese, il suo assistito è deceduto, ignote ancora le cause del decesso.